Mese di bilanci, di nuovi inizi e riprogrammazioni, settembre è il periodo dell'anno in cui si archivia l'estate e si traccia un rendiconto del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti. Così è anche per il comune di Francavilla al mare, con la sindaca Luisa Russo che al Tg8 parla della stagione estiva ormai alle spalle. È stata una bellissima estate, come tutte le altre estati, ricca di eventi organizzati dall'amministrazione e dalle numerose associazioni del territorio che tanto si danno da fare per costruire insieme a noi il cartellone degli eventi e delle manifestazioni estive. In tanti ci hanno ringraziato proprio per soggiorni piacevoli fatti qui a Francavilla con delle acque che sono state all'altezza delle aspettative a parte il periodo in cui c'è stata la mucillaggine che ha riguardato tutta la costa adriatica, spiagge accoglienti, città accogliente con eventi la sera piacevoli per tutti i gusti che hanno interessato bambini, famiglie, ragazzi a seconda del tipo di evento proposto. Quindi vedremo quali saranno i dati ufficiali ma siamo soddisfatti del risultato complessivo. Cosa c'è da migliorare? C'è sempre tanto da migliorare, aspettiamo soprattutto la realizzazione del terzo depuratore che potrà davvero costituire e fare la differenza per quanto riguarda la qualità delle acque, terzo depuratore di competenza dell'ACA ma i lavori sono già stati aggiudicati e dovrebbe essere imminente l'inizio del cantiere. E poi si può sempre lavorare per stare al passo con i tempi per soddisfare tutti i gusti e cercare di far arrivare il più persone possibile qui a Francavilla. Credo che una delle cose da migliorare possa essere quella dell'aeroporto d'Abruzzo in cui si auspica arrivino voli magari dal nord Europa per far sì che l'Abruzzo insieme, non solo Francavilla, possa diventare una meta di turismo soprattutto appunto dai paesi del nord Europa che tanto amano questo tipo di spiagge.